Quest'anno Nike dovrebbe chiudere con un fatturato anno in calo, dopo che anche l'esercizio precedente aveva registrato una diminuzione, seppur lieve. Al contrario, uno dei suoi competitor, che è Adidas, sta andando a gonfie vele. Direte, Roberto, ma perché tu che sei un esperto di strategia digitale, ora ci parli dell'andamento economico di due brand sportivi? Esattamente perché è sul posizionamento, e quindi sulle leve di comunicazione e marketing che i due brand hanno adottato, che si sta giocando questa partita. Se ci pensate, Nike è certamente quello che in gergo viene detto marchio Tom, top of mind, cioè probabilmente il primo che vi viene in mente se vi chiedessi, dimmi una marca di avviamento sportivo, quindi un brand fortissimo, ma di avviamento sportivo appunto. L'identità di Nike è fortemente legata alla pratica dello sport, e per derivato alla competizione, alla performance, all'impegno. Adidas, invece, ha un posizionamento sempre legato al settore, ma non così rigido, ed è un marchio che ci viene in mente anche se pensiamo a qualcosa da indossare nel tempo libero, che sia contemporaneamente comodo e cool, più lifestyle diciamo. Ora, negli ultimi anni si è affermato una tendenza culturale e sociologica che ci vede un po' allergici a tutto ciò che riguarda la performance e la competizione. Soprattutto le generazioni più giovani si stanno allontanando da valori come la buona prestazione o il successo, mentre apprezzano di più cose più autentiche, che mettano al centro la persona come il tempo trascorso facendo ciò che si ama o con chi si ama. Ecco, diciamo che Adidas e Nike, come qualsiasi altro attore di mercato, si trovano a fare i conti con un periodo storico che è più a fine uno e meno all'altro, il che costringerebbe il brand più lontano a rivedere un po' la propria narrativa e i valori che rappresenta. È una cosa che succede più spesso di quanto si creda. Negli anni i brand devono rivedere periodicamente il loro racconto e la percezione che i consumatori hanno di loro, pena vendere meno o, come è successo in alcuni casi, addirittura fallire.